Le cure, come in tutta la famiglia degli herpes, sono sostanzialmente con la ciclovir. Il problema dello zoster è che la resistenza del virus alla ciclovir è 4 volte maggiore che non nel simplex, quindi i dosaggi vanno quadruplicati, che vuol dire che la ciclovir invece di darlo 200 mg per 5 volte al giorno, deve essere usato 800 mg per 5 volte al giorno, il che ovviamente è più impegnativo. Si sa che la terapia nelle prime 48-72 ore ha un alto tasso di efficacia, dopo l'efficacia diminuisce.